Ben quattro ambulanze ferme nello spiazzale dell'ospedale maggiore di Modica, una ventina di persone in visita e 23 che aspettavano di entrare per essere controllate. Una situazione che ieri pomeriggio ha scatenato il caos al pronto soccorso del nosocomio modicano, che già durante l'anno vive giornalmente, problemi di serio sovraffollamento, che in estate si fa sentire in maniera più forte, visto anche il numero di turisti e visitatori nel territorio ebleo. Momenti di tensione quindi ieri tra malati, parenti e operatori sanitari. A causa delle ambulanze ferme per circa due ore sono rimaste scoperte le postizioni di Marina di Modica, Marina di Ragusa, Scicle e Ispica e sembrerebbe che non sia la prima volta che in queste calde settimane estive si verifichino episodi simili. Con i letti del pronto soccorso pieni e la mancanza di barelle dove sistemare i pazienti perché tutte occupate, si finisce spesso infatti per usare quelle delle ambulanze stesse. La situazione è tornata alla quasi normalità intorno alle 20 con l'ultima ambulanza che ha lasciato il maggiore. In questi giorni al pronto soccorso anche diversi bambini affetti da virus castra intestinale. Sui social alcune mamme puntano il dito come ogni anno sulla salubrità dell'acqua del mare del nostro ritorale in cui i figli fanno il bagno e chiedono più controlli. In realtà però la nostra costa è tra quelle promosse da Goletta Verde di Lega Ambiente per la pulizia delle acque. Grazie a tutti.